Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, due chilometri di coda per incidente in Galleria in direzione sud tra più a uno variante e Calenzano. Sempre in A1 code a tratti per traffico verso nord tra Calenzano e più a uno variante. In A11 rallentamenti e code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Prato Ovest e il Bivio con l'A1. E arriviamo in Fipili rallentamenti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci in carreggiata opposta a coda in uscita a Pisa nord-est. Nel traffico urbano di Firenze relativamente alla qualità dell'aria non scatterà dal 24 aprile il blocco della circolazione per i veicoli diesel Euro 5. Comune e Regione sono giunti a un protocollo che predispone alcuni divieti limitati al tratto tra Piazza Beccaria e Piazza della Libertà che saranno introdotti in modo progressivo ed eventuale dal primo giugno. Oltre i dettagli sui nostri canali social. Buonasera, Sintos Canale Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.